Questo è un piatto antichissimo della tradizione palazzolese, è un piatto che è stato citato dal nostro concittadino Giuseppe Fava in un libro Mangiar Bene Siracusano, ed è della salsiccia di palazzolo, avvolta nella carta paglia, la salsiccia di palazzolo è molto antica, la qualità della salsiccia è nei maiali, la particolarità è che viene impastata con del nero d'avola, del finocchietto selvatico, sale e peperoncino rosso, viene imbutellata e poi si può fare in vari modi, questo è uno dei modi con cui si può gustare al meglio la salsiccia, quindi viene chiusa nella carta paglia, poi la carta paglia viene passata nel nero d'avola, in un vino in cui viene anche impastata la salsiccia, perché così non si brucia la carta, poi come si faceva una volta con la cenere calda, noi ancora lo possiamo fare perché abbiamo il forno di pietra, si posiziona, si copre e qui si lascia stare per circa mezz'oretta, noi la mettiamo di nuovo dentro il forno, così continua a cucinare questo nostro concittadino, la accompagniamo con delle olive nere saltate in una padella di ferro con uno spicchietto d'aglio, del peperoncino e dei semi di finocchietto e una bella patata calda, bollita, bagnata nel sale e un bel bicchiere di vino rosso.